ciao a tutti benvenuti su strip tv oggi prepareremo insieme delle tipiche orecchiette poliesi iniziamo col mettere su una spianatoia la semola a forma di fontana creando un buco all'interno aggiungiamo pian piano dell'acqua calda lo lavoriamo fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo l'impasto è ottenuto con la nostra manualità con la nostra manualità con la nostra manualità le nostre orecchiette sono pronte ora preparatele anche voi grazie a tutti grazie a tutti